Risotto alla salvia con gamberi. Il risotto alla salvia con gamberi è un primo piatto saporito e fresco, perfetto da preparare in febbraio, quando i gamberi sono di stagione. Una ricetta che unisce gusto e semplicità. Ingredienti 320 g di riso, un spicchio d'aglio, un scalogno, un mezzo bicchiere di vino bianco, un mezzo litro di brodo vegetale, 12 gamberi, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, un cucchiaino di salvia tritata, un cucchiaino di prezzemolo tritato, sale QB, pepe QB, preparazione in una pentola antiaderente, fate soffriggere lo scalogno tritato con l'olio, l'aglio e la salvia per qualche minuto. Aggiungete il riso e fatelo tostare per un paio di minuti. Sfumate con il vino bianco e, appena sarà evaporato, unite il brodo vegetale, un mestolo alla volta, mescolando con un cucchiaio di legno. Aggiungete i gamberi, salate e pepate e cuocete per circa 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. A cottura ultimata, aggiungete il prezzemolo tritato e servite il risotto alla salvia con gamberi ben caldo.